Siracusa, ma chi è il direttore di esecuzione del contratto di igiene urbana che costa a Siracusane 6.800 euro al mese? Chi è il direttore di esecuzione del contratto che regola il servizio di igiene urbana a Siracusa? Trattandosi di una figura che costa 6.800 euro al mese ai contribuenti di Siracusane, sarebbe forse il caso di dare una qualche indicazione sulla sua identità e su quali risultati abbia prodotto e in quali ambiti della raccolta rifiuti. Da quando questa figura è nata, negli ultimi mesi del 2018, si sono susseguiti circa una decina di proroghe di affidamenti diretti del servizio a Siracusa. Il direttore di esecuzione del servizio di igiene urbana costava ai contribuenti di Siracusa 4.000 euro al mese nel 2019, saliti a 6.300 nel 2020 fino agli attuali 6.800. Eppure dalla metà del 2020 non sappiamo chi è e neanche cosa produce. Sappiamo che il servizio del direttore di esecuzione del servizio dal 2018 ad oggi è stato scelto tramite affidamento diretto e numerose volte è stato oggetto di proroga, nonostante nel 2020 fosse stato approvato un bando poi finito nel dimenticatoio. Attenzione, affidamenti diretti legittimi consentiti dai decreti e semplificazioni di questi anni. Bisogna capire però quanto opportuni, visto che si tratta del servizio probabilmente più importante per il Comune di durata settennale. Magari è anche a causa della poca incisività delle società consulenti selezionate per il ruolo che il servizio di raccolta dei rifiuti non decolla, specie se in ipotesi gli uffici del direttore di esecuzione non vigilano costantemente sull'esecuzione dei vari aspetti del contratto di igiene urbana. Lo afferma il Movimento 5 Stelle di Siracusa. Grazie a tutti.